Uomini e donne, puntata speciale. C'è posta per te. Giorgio bacerà Gemma. I fans di Uomini e donne sono ansiosi di vedere la puntata speciale che andrà in onda sabato 18 marzo 2017 in prima serata, nella quale i protagonisti del trono classico e over si esibiranno in alcune prove di abilità, alcuni nella sala di amici ed altri dove si svolge il talent show Tussi che Vales. Ma non è tutto perché sarà una puntata dove non mancheranno attimi emozionanti. Presso gli studi di C'è posta per te, quattro coppie, formate sia uomini e donne, leggeranno delle bellissime lettere al proprio partner e il tutto verrà giudicato d'Alfonso Signorini. Per quanto riguarda il trono classico, leggeranno la lettera due coppie, Eugenio Colombo a Francesca del Taglia e Alessia Cammarota ad Aldo Palmeri. Mentre per quanto riguarda il trono over, Gemma Galgani leggerà la lettera a Giorgio Manetti e Lisa a Fabio. Ma vediamo nel dettaglio il primo protagonista che leggerà la lettera a C'è posta per te. La prima che legge la lettera al suo amato è Alessia Cammarota, la quale inizia con la frase, a volte per ritrovarsi basta perdersi quasi del tutto. L'ex corteggiatrice di uomini e donne nella missiva spiega il suo malessere dovuto all'assenza del marito, riferendo che non riusciva a mangiare e persino a bere un goccio d'acqua. Alessia rivela di vedere a volte negli occhi di Aldo una sorta di malinconia per ciò che è accaduto, ma nello stesso tempo lo incoraggia sostenendo che in una coppia si sbaglia in due, ammettendo così che anche lei ha colpa per ciò che è accaduto. La Cammarota è convinta del fatto che suo marito sia tornato a casa non solo per il figlio, ma perché lui la ama. L'ex tronista ha pianto per tutto il momento nel quale la moglie ha letto quelle frasi dolce per lui e in un modo di impeto ha risposto che la ama, che lei è l'unica forza ed è tutta la sua vita. Alfonso Signorini si è emozionato per questa lettera strappalacrime. La lettera di Francesca del Taglia a Eugenio Colombo. È il momento di ascoltare la missiva che Eugenio ha scritto a Francesca. Colombo riferisce che si è innamorato di lei dal primo momento che l'ha vista, capendo immediatamente che era la donna giusta per lui. Dopo un'esterna nella quale tra loro c'è stato il primo bacio, non ha fatto altro che parlare con il fratello di lei. L'ex tronista ha riferito che per Francesca questo non è un anno facile. Perché l'azienda di famiglia ha fallito, rivelando che nello stesso tempo non si è persa d'animo e ha iniziato a lavorare part time come segretaria. Inoltre Eugenio racconta che a Natale la del Taglia ha perso la nonna, persona che per lei era estremamente importante, comunicando che se potesse gliela porterebbe indietro. Il ragazzo sostiene che Francesca gli ha donato brando, riferendo che dopo quattro mesi di convivenza lo hanno proprio desiderato. Le parole di Eugenio scalfiscono il cuore della sua amata, che si scioglie in lacrime e riferisce di volerlo continuare ad amare per sempre. La lettera di Gemma Galgani a Giorgio Manetti Passiamo alla lettera che Gemma Galgani ha scritta a Giorgio Manetti. La stoica damma di uomini e donne over rivela al cavaliere fiorentino che lui resterà per sempre un bellissimo ricordo, che rimarrà all'interno del suo cuore. Manetti replica dicendo che è stata lei a voler far terminare la loro storia, riferendo che questa cosa a lui ha fatto male e che in amore bisogna parlare, litigare e non privarsi. Giorgio inoltre incita la dama a lottare, così si alza dalla sua postazione e le va a dare un bacio sulle labbra. Ciò significa che sono tornati insieme? Lisa Leporati e Fabio Donato, throne over Si passa alla storia tra Fabio Donato e Lisa Leporati, la quale, attraverso la lettera, chiede scusa per tutte le volte che non gli ha dimostrato di amarlo, aggiungendo inoltre che sogna di sposarsi alle Seychelles, in abito bianco a piedi nudi. Fabio risponde che se prima era solo la sua compagna, ora ha anche il suo idolo. In studio rientrano solo coloro che hanno scritto le missive ed Alfonso Signorini ha deciso che la lettera più emozionante è stata quella di Alessia Cammarota. Alla fine di tutto, credete che il bacio che Giorgio Manetti ha dato a Gemma Galgani Significhi un ritorno di fiamma? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti!